Salve a tutti, questa mattina l'associazione Primo Vito si occuperà della raccolta differenziata. In particolare parleremo dei calcinacci. Dove li buttiamo? Il mio bilancio è spazzatura. Vedi che buttano i bottoni? Noi stai spravagando, va buttando. È di matto, è di adulta di matto. 081-516-32-45 C'è qua un centro vicino, dove sta la riscarica. Ma quando in casa ci troviamo questi calcinacci, dove li buttiamo? Non ne ho la più pallida idea. Questi calcinacci dove li buttiamo? Mi trovo impreparato. Dobbiamo rivolgerci dentro al comune. 081-516-32-45 È semplicissimo. Mi raccomando, eh! Come sono le buste? Così faccio. Logicamente non è che faccio tutto insieme. La carta con la carta, la spazzatura con la... Tutto. Questi qui, dove li mettiamo? Eh, dove li mettiamo? No, questi li porto in tabagno perché è già comune. Sai le cose? Che cosa sappono tutto questo? C'è l'informazione, quindi lasciamo a voi la parola. Io, in realtà, non so a cosa... cosa devo dire. Ah! 081-516-32-45 Dove dobbiamo buttare questi calcinacci? Eh, vanno smaltiti in un sito apposito. So che esistente un numero, diciamo, comunale in cui possiamo rivolgerci. 081-516-32-45 Ma è un numero che conosco, questo. Che numero è questo? Il comunico, infatti il numero che c'è. È un numero che c'è. È un numero che c'è. È un numero che c'è. È una pelatone, vede fino a casa e la rimane. Preparatissimo! Dove buttiamo questi calcinacci? Se c'è una discarica, qui li buttiamo. Oh, bravissima! E come raggiungiamo questa discarica? Beh, si sa, con la macchina, noi che possiamo andare a piedi. Ebbene, cari amiche mie, sono diverse ore che stiamo camminando e abbiamo scoperto una cosa molto, molto importante. Ebbene, l'informazione è poca. Una volta che avete fatto dei lavori a casa, dove li buttate? Bisogna fare primi lavori a casa. Allora, hai capito qual è il problema? Il problema è che bisogna differenziare. Eh sì, per i calcinacci bisogna chiamare il comune, hai capito? Possiamo dire che la missione calcinacci... È compiuta! E' compiuta! Finalmente! Allora, se avete i calcinacci in casa, perché avete fatto dei piccoli lavori, insomma, dovete telefonare a questo numero. 081-516-3245 L'operatore verrà da voi, raccoglierà i vostri calcinacci. Questo significa differenziare. E allora buona raccolta a Castel San Giorgio. Differenziati! E allora buona raccoglierà i vostri calcinacci. E allora buona raccoglierà i vostri calcoglierà i vostri calcoglierà i vostri calcoglierà. E allora buona raccoglierà i vostri calcoglierà.